Che succede? Dei robot e un cacciatore della cripta? Signore, ci hanno mandato a cercare Toby Vanadoby. E dai? Sta registrando? L'hai fatto un'altra volta, cervello di Skegg. Ti sei portato via il mio scrub e sfogliante Torgpetal. Lo sai che uso solo quello e che non posso procurarmi neancora perché ne esistono solo tre flaconi in tutto l'universo. Senza, non posso uscire. Aiutami, Toby Vanadoby! Hai la mia unica essenza! Oh, ecco qual era il problema. L'ho finita proprio adesso. Cosa? Ha trovato gli altri due flaconi subito dopo che siamo usciti e il viaggio è stato totalmente inutile? Io... io... beh, ci ha fatto uscire dalla nave, quantomeno. È davvero imbarazzante, ma non possiamo pagarti. Sì, non potrei essere più d'accordo. Che maleducazione. In tal caso ti darò io qualcosa per il disturbo. che... Grazie.